Ok, Shalom, 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 we are the Hebrew Israelites, noi siamo gli ebrei israeliti e prima di iniziare vogliamo dare tutta la gloria, il potere e le lodi, al creatore onnipotente Yahawa Ba'asham, Yahawa Shai, Ba'asham, Rukak Tash Yahawa è il vero nome del padre, Yahawa Shai è il vero nome di suo figlio nell'antico ebraico Ba'asham significa nel nome e la Rukak Tash è lo spirito santo vogliamo dare i nostri doppi onori agli anziani e agli apostoli della Gran Pietramolino in inglese Great Mewstone GMS loro sono i maestri che il padre si è scelto per insegnare al 100% la verità della Bibbia e dare l'unica e vera interpretazione delle Sacre Scritture Shalom che significa pace agli eletti della Casa di Israele il vero popolo di Israele sono i così chiamati negri, latini e nativi indiani d'America che per storia, genealogia e profezia sono le 12 tribù che oggi sono disperse in tutto il mondo e a coloro che predicano la verità in sincerità e umiltà e che vivono servendo l'altissimo Yahawa Ba'ashem Yahawa Shai Shalom Yahawa Ba'ashem Yahawa Shai Barak Tam e ringraziamo il Padre Onipotente Yahawa Ba'ashem Yahawa Shai il nostro Signore Yahawa Shai per averci permesso di ritrovarci per predicare la verità e ringraziamo il nostro Signore Yahawa Shai Barak Tam